1.419 persone che hanno usato la bicicletta ieri mattina e le abbiamo rilevate per due ore è un grande risultato. A dimostrazione del fatto che anche al di là delle infrastrutture che in alcuni casi vanno migliorate, sicuramente va ripreso un percorso per aumentare la sicurezza, però i fanesi si muovono in bicicletta, si muovono da sempre in bicicletta nonostante in alcuni casi, soprattutto negli ultimi anni, non abbiamo dedicato soldi a queste attività. In arrivo anche nuove risorse per l'ufficio mobilità grazie alle variazioni di bilancio, risorse che serviranno per l'ordinario, oltre alle strade anche il verde pubblico ne gioverà. Sì, una somma importante che il Comune di Fano ha deciso di destinare alla manutenzione delle strade, alla gestione del verde pubblico e alla manutenzione degli edifici, ovvero soprattutto per le strade dove abbiamo dedicato di questi 300.000 euro 190.000 euro e ovviamente perché continuiamo ad avere cura della viabilità interna. Dopo il grande piano dell'asfaltatura che abbiamo messo in campo l'anno scorso, continuiamo comunque a occuparci di strade, prevenendo le rotture, quindi facendo manutenzione, e per questo destiniamo una somma importante, senza trascurare comunque anche i soldi che mettiamo nel verde pubblico, che ci permetteranno anche di fare delle potature, delle piante, aumentare la qualità del verde, e quindi sicuramente questa è una notizia importante, quindi non tagliamo spese da altre parti, quindi questa è una notizia importante. Grazie a tutti.